In questi giorni, in queste ore, viviamo tutti l'angoscia per quello che sta succedendo a Venezia, una città unica al mondo, un patrimonio italiano, un emblema dell'Italia per tutto il mondo che viene sommersa dall'acqua in una condizione disperante ed è una condizione quella di Venezia che si appaia a un altro dramma tutto italiano che riguarda l'IVA, la siderurgia che però mette insieme non solo la politica industriale ma anche la tutela ambientale come appunto succede a Venezia. Quindi sono due facce, due metafore della stessa situazione, cioè di un'Italia che sta affondando, che non riesce più a trovare il bandolo della matassa e che si avvita su se stesso anche a costo di sperperare, di dilapidare quelli che sono i suoi tesori artistico-monumentali e industriali. È ovvio che a questo bisogna mettere il riparo, però il problema è come, in che termini, perché vedete la questione, è una cosa sulla quale noi qui al dubbio ragioniamo da tempo e ne scriviamo, la questione non è semplicemente che c'è una difficoltà dell'elite, della classe dirigente italiana, del sistema politico istituzionale, qui per cui c'è una maggioranza che è in crisi, una situazione di difficoltà che può essere superata, no, qui è proprio l'intero sistema che non funziona più, l'intero sistema politico istituzionale e se noi non mettiamo mano a questo, questo è il punto fondamentale, se noi non mettiamo mano alla ristrutturazione di questo sistema, finalmente una volta per tutte, superando le barriere delle singole sigle politiche, in uno sforzo comune dettato dall'emergenza, dal fatto che stiamo affondando, se non facciamo questo sforzo e allora ogni cosa sarà inutile. Voglio essere molto chiaro, adesso abbiamo detto il problema dell'ILVA, lasciamo stare Venezia per un attimo, vediamo il problema dell'ILVA, questa maggioranza è in difficoltà perché 5 Stelle un pezzo vuole, non vuole fare lo scudo penale, un altro sì, però il punto è che se questa maggioranza, come purtroppo accade, non è in grado di risolvere quel problema, non è che un'altra maggioranza, magari dopo il voto elettorale che vedrà vincere presumibilmente Salvini e il centrodestra, non è che un'altra maggioranza ha la bacchetta magica per risolvere quel problema lì, comunque la questione della politica industriale, dell'allocazione delle risorse, della tutela ambientale, della salvaguardia dei posti di lavoro, questo resterà comunque, non è che sparisce, quindi non è una questione di semplice coagulo e coesione delle forze politiche che sostengono un tipo di governo, il problema è più complessivo di un Paese che non riesce più a trovare la propria identità, che la sta smarrendo e sta dilapidando i propri patrimoni, quindi servirebbe uno sforzo di sistema, lo diciamo da tempo, uno sforzo di sistema perché quella che stiamo vivendo non è una crisi ciclica come tante altre, ma è una crisi che mette in discussione i fondamenti stessi, le fondamenta stesse del nostro Paese, allora uno sforzo in questa direzione sarebbe auspicabile, lo devono fare le forze politiche, lo devono fare l'intera classe dirigente, ma lo devono fare anche i cittadini, oggi pubblichiamo un articolo di un nostro collaboratore con un pseudonimo che si chiama Pastor Cortese che dice basta con gli urli, cerchiamo di confrontarci, cerchiamo di trovare la maniera perché chi deve governare possa farlo e però trovando anche il pungolo, ma il sostegno laddove è necessario per le crisi così importanti anche dell'opposizione, senza creare ogni volta polemiche, senza avvelenare ogni volta il clima, è un appello che può sembrare buonista, però se non facciamo così non ne usciamo, allora noi lavoriamo in questa direzione, ma quello che succede, ripeto, è una crisi di sistema emblematizzata anche dalla crisi della giustizia, non si riesce a fare la riforma della giustizia, non è riuscita a farla la maggioranza di centrodestra, con 5 Stelle e Lega, quella sovranista, non è riuscita a farla questa maggioranza più spostata a sinistra pur avendo come perno sempre 5 Stelle, allora il problema è che se le riforme non si fanno i problemi si aggravano, non è che si risolvono, non è che scompaiono, allora serve uno sforzo in questa direzione, o lo facciamo oppure guardate siamo destinati ad avere un declino anche molto rapido che coinvolgerà non solo questa generazione ma anche quelle che verranno dopo e questo è davvero un delitto che dovremmo evitare.